E' stato firmato oggi a Pordenone il verbale di messa in esercizio della nuova stazione intermodale. Sulla struttura ha competenza la provincia di Pordenone, che con quest'atto ne demanda la gestione al Comune, il quale a sua volta ha sottoscritto una convenzione di subconcessione con la società GSM, che ne diventerà così il gestore a partire dal 1 novembre 2015. Gli atti sono stati formalizzati con le firme dell'ingegnere Giuseppe Perissinotto per la provincia, dell'architetto Antonio Zoffrea per il Comune, del presidente della società GSM Walter Furlan, l'assessore comunale Bruno Zille. Credo che sarà una condizione fondamentale per mettere in sicurezza e quindi garantire tutti quei servizi necessari per la città di Pordenone ma anche per tutto il suo territorio a carattere provinciale. Riteniamo che il servizio del trasporto pubblico, ubicato in questa posizione, assieme alla stazione delle ferrovie e quindi anche tutto il sistema del bike sharing, potrà creare, così pure anche per quanto riguarda la custodia delle biciclette, un punto importante dell'intermodalità e quindi favorire tutto quello che è la movimentazione, diciamo così, sia del trasporto su gomma, sia su rotaia, sia anche con lo scambio con la bicicletta. Quindi un punto importante per la città e per il sistema della mobilità ecosostenibile.